Tore del Greco è pronta ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultraottantenni. Lo ha affermato il sindaco Giovanni Palomba che questa mattina insieme alla giunta comunale ha approvato la deribera numero 15 del 19-2-2021 con la quale il comune di Tore del Greco assegna in via provvisoria per la durata di otto mesi i locali al piano terra dell'ex orfanotrofio della Santissima Trinità all'Als Napoli 3 Sud per l'attivazione del punto di vaccinazione territoriale contro il Covid-19 per la città. Nello specifico il comune dà in concessione i locali con annessaria parcheggio esterna accessibile da via circunvallazione mentre l'azienda sanitaria locale provvederà agli opportuni interventi di carattere provvisorio e non strutturale necessari al fine di rendere gli ambienti idonei alla destinazione. Dopo l'avvio della campagna vaccinale al personale scolastico docente e non docente presso l'Istituto Giacomo Leopardi, plesso Giovanni Paolo II, l'Asl provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione vaccinale in modo che si potrà partire anche con il resto della popolazione con una postazione facilmente raggiungibile ed efficiente prontamente messa a disposizione della città, ha concluso il sindaco Giovanni Palomba. Giacomo Leopardi